Bisognerà seguire un po' le orme del Veneto, un po' in tutta Italia, di una massiva capacità diagnostica nella speranza che di poter usare test rapidi per poter fare una discriminante rispetto a una sintomatologia. La linea tracciata dal Veneto dovrà essere adottata in tutta Italia, soprattutto in vista dell'autunno. Effettuare tamponi è quindi un imperativo categorico per Fabrizio Pregliasco, uno dei più noti virologi a livello nazionale. Più positivi individuiamo, più li controlliamo, meno contagiano, perché è un destino, lo sapevamo, i focolai si sono realisti e si susseguiranno nel prossimo futuro con lo sbalzo termico nascosti tra i casi di influenza e quindi questa battaglia è una battaglia che dobbiamo continuare. Una battaglia che non può prescindere dalla regolamentazione dei flussi sui mezzi di trasporto, soprattutto nel tragitto casascuola, un nodo cruciale ma complicato per lo stesso Pregliasco. Il trasporto sarà, a mio avviso, l'elemento più complesso perché davvero, se non ci sarà disponibilità di maggiori spazi, di sistemi di divisione, di separazione all'interno degli scuolabus, il problema si porrà. Ma il virologo guarda anche i cluster veneti, tra questi i latrevali di Vazzola e in generale i focolai aziendali. In un contesto lavorativo, agricolo, di un allevamento, già c'è caldo e ci sono condizioni di lavoro stringenti, però è proprio lì che il virus trova la facilità per diffondersi. Lì in discoteca, ma appunto in luoghi dove c'è una vicinanza molto prolungata di persone. E a proposito di discoteche, movida e giovani, il fronte è quello della sensibilizzazione. È giusto che si viva la vita serenamente, ma con quella giusta vigilanza e quel giusto buonsenso e bisogna dirlo in termini propositivi ai giovani senza in qualche modo proprio pesantemente redarguirli perché non è un sistema per far sì che aderiscano a queste norme.